Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A1 verso Roma, 2 km di coda per Fumo, sul versante Emiliano della Direttissima, tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia. Verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. In A15, 2 km di coda per incidente al km 63-180, tra Pontremoli e Berceto, verso Parma. Un km di coda per lavori e traffico intenso, tra Berceto e Pontremoli, verso La Spezia. Infine per i treni, a causa di un guasto tecnico agli impianti di circolazione a Valdarno Sud, i treni percorrenti la linea tra Firenze e Arezzo potranno subire ritardi o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!